La Basilicata è una delle regioni meglio amministrate d'Italia in generale, forse la meglio amministrata nel mezzogiorno, ancora l'altro giorno credo che abbia avuto l'Oscar per il suo bilancio, quindi è una regione virtuosa, funziona bene la sanità, funzionano bene gli investimenti. La pensa così il segretario del Partito Democratico, Guglielmo Epifani, a potenza per sostenere il candidato governatore del centro-sinistra alle prossime regionali, Marcello Pittella, un'occasione per il leader del PD per affrontare diverse questioni, anche nazionali, su tutta quella relativa alle retribuzioni. Noi abbiamo un primato negativo perché abbiamo le retribuzioni nette tra le più basse d'Europa e abbiamo un primato per quanto riguarda alcune retribuzioni che non si giustificano nella loro dimensione esagerata, tanto più con questa crisi. È possibile immaginare una legge in proposito? Se ne è parlata per quanto riguarda i manager pubblici, bisogna trovare degli strumenti per calmirare queste cose esagerate. Parlando della vicenda legata alla decadenza di Berlusconi, Epifani ha spiegato che il PD vuole solo applicare una legge come farebbe per chiunque. La visita in Basilicata di Epifani si è conclusa a Matera, dove il comizio del partito in piazza Vittorio Veneto è stato accompagnato per tutta la sua durata da continui fischi e urla da parte dei sostenitori del Movimento 5 Stelle che in precedenza avevano partecipato ad un'iniziativa elettorale con Beppe Grillo.